Il Signore è un Dio che sa tutto, e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. 1 Samuel 2,3 Gesù conosce il tuo cuore. Qualcuno ha fatto un'affermazione molto importante dicendo Dio non conta gli uomini, ma li pesa. La bilancia di Dio è perfetta, Egli non sbaglia mai la sua valutazione, e sa tutto. Anche quest'oggi saliamo sulla bilancia di Dio, e lasciamo che Lui scruti il nostro cuore, scandagli la nostra vita, e giudichi il nostro operato. L'uomo generalmente cerca di piacere agli altri, avere il consenso della gente, e vivere seguendo le proprie idee. Quante volte però ricerca la volontà di Dio, la sua guida, la sua approvazione? Ciò che veramente conta è ricercare, attraverso la rivelazione della Bibbia, il volere di Dio, e sottomettersi a Lui affinché la sua volontà sia fatta in noi. Esaminando sinceramente e in modo accurato la nostra vita, certamente emergeranno cose che devono essere abbandonate e altre cambiate. Lasciamo che il Signore stesso operi in noi, in modo da renderci come Lui gradisce, approvati in ogni cosa. Grazie per la visione!